La testa della Befana, Piazza Navona, si farà o non si farà? L'amministrazione comunale sta provvedendo dopo le polemiche dei giorni scorsi. Gli operatori commerciali infatti non hanno ritirato la licenza contestando il provvedimento Capitolino che riduce il numero dei banchi da 115 a 72 e limita anche la vendita ai suoli prodotti natalizi. Allora andiamo da Rossella Santilli e dai suoi ospiti in diretta appunto da Piazza Navona. Buongiorno Rossella. Sì buongiorno Mariella, buongiorno ai nostri telespettatori del tutto il Lazio. Ecco la Piazza Navona modello 2014 nel senso che non ci sono dopo tantissimi anni tutti i banchi che nelle scorse edizioni della Befana vedevamo qui. Come dicevi appunto il nuovo bando pubblicato dal primo municipio e dall'assessorato al commercio del comune di Roma i numeri sono 77 banchi sui vecchi 115. Ma cosa è successo? Che l'8 dicembre non sono state ritirate le licenze che erano state concesse. Perché? Perché gli operatori contestano numeri e generi di vendita. Ecco la rimasta la giostra, alcuni banchi che invece hanno ritirato la licenza e allora sentiamo subito uno degli operatori di questo gruppo che non ha ritirato la licenza. Buongiorno signora, motivi? Voi avete presentato il ricorso al TAR che si pronuncerà venerdì prossimo. Sul vostro ricorso cos'è che contestate? Contestiamo che è stata calpestata la nostra anzianità di partecipazione perché le leggi nazionali e regionali prevedono che debba essere rispettata la nostra anzianità di partecipazione. Rossella, ma allora che cosa succederà per la Befana? Questa festa ci sarà? Allora la festa ci sarà, così ha annunciato il Campidoglio ed ecco perché lo chiediamo subito all'assessore a commercio Leonori. Buongiorno assessore, cosa sarà qui dai prossimi giorni fino all'8 gennaio? Stiamo lavorando con il municipio per riempire comunque la piazza con dei progetti di animazione dedicati ai bambini. Quindi sempre festa della Befana, ma una festa più appunto di animazione piena di attività che non commerciale. Per quest'anno andrà probabilmente così. Forse è anche un modo per ritornare ad alcune tradizioni che si erano un po' perse. Allora un residente di Piazza Navona, Massimo Lancellotti, anche l'anno scorso voi chiedevate proprio un ritorno alla tradizione e al decoro? Sì sì, molto scientificamente noi siamo d'accordo con quanto è stato deciso dal municipio in base alle indicazioni della sovintendenza. Vogliamo che la manifestazione si svolga e si svolga in base alle indicazioni del bando. Allora CNA di Roma, Botteghe Storiche, buono questo ritorno della tradizione in Piazza Navona? Ma io la vedo come una grande opportunità per ridare la festa ai bambini con la tradizione originaria. Quindi è un'occasione per ripartire e per ridare a questa piazza il contesto giusto con i giusti banchi e la giusta merce. Grazie.